E' stata inaugurata la pista di atletica leggera di via Senna a Montesilvano. L'impianto omologato dalla FIDAL nella classe IE Esercizio, il cui progetto risale al 2009, è stato realizzato con un costo complessivo di circa 500.000 euro. La pista di atletica leggera ha spiegato il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, e una delle tante opere incompiute che l'amministrazione ha fatto ripartire. Questo impianto rappresenterà una risorsa per il territorio. Soddisfatto anche il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro, tanti ragazzi di Montesilvano. Fino ad oggi, infatti, sono stati costretti ad allenarsi a Pescara. La costruzione dell'impianto dunque era un passo fondamentale. Un evento storico, considerando la situazione carente in regione degli impianti sportivi e di atletica in particolare. Parola a Giovanni De Benedictis, ex marciatore e medaglia di bronzo a Barcellona 1992, recordman italiano e non solo, con cinque olimpiadi in curriculum. Io da più di un anno lavoro sul territorio. Passare qui ogni volta e vedere i cancelli chiusi, francamente, mi si stringeva il cuore. Oggi è un giorno particolarmente felice. Utilizzeremo una struttura importante, localizzata in un posto fondamentale. Mi auguro che questo sia un grande inizio. Ti è tornata anche la voglia di fare atletica. Adesso ti vediamo anche in versione, in versione allenatore, perché stai preparando due atleti molto importanti. Sì, due olimpionici, due persone che hanno già dato tanto alla nostra nazione. Mi auguro continuino a dare. Sicuramente una persona, Marco De Luca, è a fine carriera. Giorgio Rubino, invece, vuole fare ancora un ciclo olimpico importante. Io sono da quest'anno il loro allenatore. Spero di poter contribuire positivamente alla loro carriera.